Le banche centrali che stanno guardando con particolare attenzione quello che sta avvenendo in tutto il mondo, con Bruxelles che già si muove e convoca un vertice straordinario dei ministri dell'energia. Le banche centrali devono agire in modo deciso per ridurre l'inflazione e frenare le aspettative per ulteriori rialzi futuri dei prezzi. L'invito viene dal numero 2 del Fondo Monetario Internazionale, Gina Gopinat, al simposio di Jackson Hole. In questi giorni la località nel Wyoming ospita il gota dei banchieri mondiali. E per quanto riguarda gli Stati Uniti la battaglia della Federal Reserve contro l'inflazione non è finita. Il presidente Jerome Powell nel suo intervento ha annunciato che la banca centrale americana userà tutti gli strumenti a disposizione per domare l'inflazione. L'economia americana sta rallentando, dice Powell, ma il mercato del lavoro è forte. Sottolinea poi che il rallentamento dell'inflazione a luglio al 6% è una buona notizia, ma l'obiettivo è un'inflazione sotto il 2% e questo richiede una politica restrittiva a duratura. All'aumento di 75 punti base dei tassi a luglio potrebbe seguirne un altro della stessa entità a fine settembre. In Europa un nuovo rialzo del costo del denaro è atteso invece per i primi di settembre. Nelle prossime ore la presidente della BC e la Guard, sempre da Jackson Hole, darà le sue indicazioni. Lo spread resta sui massimi attorno ai 230 punti, ma nonostante l'incertezza cresce la fiducia dei consumatori ad agosto, probabilmente sulla spinta dell'effetto vacanze, come fanno notare le associazioni dei consumatori. Scende invece la fiducia delle imprese, costretta a fermarsi o a rallentare la produzione per il caro energia. Ed è il record dei depositi bancari. Secondo una ricerca della Fabi, il risparmio delle famiglie italiane supera i 5.000 miliardi di euro a fine 2021. Quasi 1.700 miliardi sono stati accantonati negli ultimi 10 anni.